I migliori posti dove incontrare ragazze e ragazzi In treno Ah, che freno, in aereo Non lo so, sarà che io trovo gli agi... Questa la sciavola Io adoro gli incontri per strada Cioè, davvero, l'hanno detto davvero? Tutte queste strategie dei pick-up artist che mi dicono No, fermate le ragazze, puoi ripetere Sono cavolate, perché non arrivate da nessuna parte Il rapporto emotivo intenso è qualcosa che non puoi comprare Bravo Capito? Oggi ti do ragione su tutto Oggi ci hai lasciato senza parole, Maurizio Quando le lascio senza parole vuol dire che ho colpito Però è così, ragazze Maurizio Romano, il gentleman seduttore Colui che aiuta gli uomini a trovare la donna dei loro sogni Non dovrai fare nulla, sarà lei a venire da te Oggi parliamo di incontri E ora le menti maliziose di molti dei nostri ascoltatori diranno Ah, ma no, perché parlano di incontri, zozzoni No, parliamo di i migliori posti dove incontrare ragazze e ragazzi Dove le ragazze preferiscono essere approcciate Perché una delle più grandi false credenze È che in discoteca ci siano un sacco di occasioni per conoscere ragazze In realtà, siccome ho calcato i tavoli delle discoteche Non so se si dice calcato, ma me ne fego Per tanti, tanti, tanti anni Vi posso dire che è il posto dove paradossalmente si conoscono Si conoscono tante ragazze Ma è più difficile Io mi sono sempre trovato meglio nei locali dove si può parlare Perché ovviamente insegnare Esatto, cocktail bar Dove puoi parlare e puoi fare la differenza Perché in discoteca con la musica 2000 Più che sbocciare o arrivare con Si, può essere giusto un imprento iniziale Ma poi la conoscenza viene in un altro luogo Esatto, esatto E a me è successo così Eh, infatti Cioè tu conosci una persona in discoteca Ti può piacere esteticamente Però devi avere anche un po' L'approccio vero e proprio è stato al di fuori della discoteca Esatto, esatto Secondo voi quali sono i posti migliori per incontrare persone Per voi, cioè dove preferireste incontrare un uomo, ecco Ma non un appuntamento, eh No, no, l'incontro Cioè Allora parlo per me perché penso che ognuna di noi abbia Certo, certo Allora, a me piacciono molto gli incontri casuali Cioè io non sopporto le amiche che mi presentano gli amici Terribile Terribile Se c'è un... Se dovessi scrivere un inferno... No, a me già mi sembra una roba combinata Mamma mia, terribile Io adoro gli incontri per strada Cioè? I colpi di fulmino per strada A me è capitato, ragazzi A me è capitato un ragazzo che pensa Davvero? L'hanno detto davvero? Me lo ricorderò sempre Era tipo il 14 febbraio, non mi ricordi che anno Camminavo nella mia via Incontro questo ragazzo bellissimo Ma proprio così Cioè ci guardiamo E basta Poi lui è andato via Ma mi era rimasto impresso Ah, ma non ti ha fermato lì? No, lì no Ci siamo guardati Però la volta dopo E ti parlo di un anno dopo Di nuovo per strada E forse si era avvicinato l'amico a chiedermi una cosa E lui mi fa Scusa ma io ti ho visto quella volta in quella via Un anno dopo Eravamo rimasti colpo di fulmine Quindi a me piace quell'incontro lì Lo so, a volte può spaventare una ragazza Perché magari sei per strada Cioè quello che ti viene a chiedere il numero tipo venditore porta a porta va bene No, il numero no Però la chiacchierata Due parole io le faccio Io le faccio Cioè questo che viene a fermarvi per strada E vi dice Aspetta, come la racconti tu? Hey baby, mi hai colpito No perché Cioè devi sapere che la seduzione C'è questa corrente di pensiero Che viene chiamata È nata così la seduzione se vogliamo Sono questi pick-up parties Gli artisti del rimorchio Come funziona? Praticamente loro si mettono in una piazza La dignità la buttano in un angolo La tolgono Cioè proprio si spogliano di ogni dignità Ogni freno in inibitorio E vanno a provarci con qualunque essere respiri È un esercizio Ma esistono queste persone qua? Esistono È un esercizio Sono dovunque Noi abbiamo Abbiamo Cioè Delle regioni di queste persone È un esercizio E io sto cercando di combatterle Sì sì I baci proprio fanno No ma davvero ragazze Cioè creano dei gruppi Tipo sai l'anonimo alcolisti No? Si mettono in gruppi Su Facebook No ma in gruppi pagano dei fior fior di quattrini Cioè per andare in queste in queste serate qui Li mettono nelle piazze E gli dicono Ora vai da quella ragazza E questi magari sono tutti impacciati No? E li insultano Li sgridano Gli dicono di tutto Ma ecco Perché devono svegliarsi Sì perché per loro Dentro la loro testa Capito Devono Devono Anche perché secondo me L'incontro così per strada No Lo puoi fare se te lo puoi permettere Cioè Ecco Allora Fai tipo Sei bello Hai un bel modo di fare No no fai tipo Già Già Attacca poco Sei un figo da paura Ecco In più Hai un buona Una buona dialettica Una buona parlantina Hai quel 60% Di probabilità Di dire Forse mi risponde Ok La prende bene Ma devi già avere Delle skill Molto più ampie dietro E soprattutto Devi essere già un figo Perché E allora lì mi sta bene Che vai a provarci Con qualsiasi essere respiri E può funzionare Ma ragazzi Ma il ragazzo normale No Che arriva Ciao Mi hai colpito La cosa che fanno nel cocktail bar Cosa cambia No ragazzaccia No Perché è diverso C'è l'ambiente diverso Esatto No c'è l'ambiente diverso Il contesto Esatto Però per assurdo Ad esempio a me Magari io sto con le mie amiche Al cocktail bar Mi infastidisci più al cocktail bar Che sono le amiche Che mentre sto facendo una passeggiata Ma infatti io non insegno Ad andare dalla tipa Al cocktail bar Io faccio in modo Al cocktail bar Di creare Di creare reputazione Di creare Un mio Una mia reputazione sociale E fare in modo Di incuriosire la donna Nel lungo periodo Perché se tu vai Da ogni ragazza Ciao Ti ho conosciuto Perché poi Io insegno una roba A creare la reputazione E a creare le condizioni Per intrigare la donna Correte per Hai capito Perché se tu vai La curiosità in lei Esatto Se tu vai dalla ragazza Ciao Mi hai colpito Parti già in una gerarchia Più bassa Perché lei sa Che sei interessato Se tu invece Crei relazioni All'interno del locale Ah quindi deve essere Sempre all'interno Di un gruppo Di un gruppo Sempre Perché tu devi scalare La gerarchia sociale Quindi che cosa fai? Cerchi di creare relazioni Con lo staff Cerchi di creare relazioni Con gli altri uomini Che frequentano Diventa casa tua Diventi il boss Hai capito E quando arrivi Esatto Quando arrivi Sei nel locale E tutti Ciao grande Ciao grande Ti salutano tutti Ti abbracciano tutti Ti vedono tutti Ti stendono i tappeti rossi La ragazza Magari Non ti caga Però Sa chi sei Sei anche più affidato Ma chi è quello lì Perché così lo salutano Con aspetto familiare Esatto Perché Sembra anche affidabile Perché tutti lo conoscono Esatto Chi è quel pirla Perché magari Ora ti faccio il mio esempio Io esagero Arrivo vestito così Dicono Ma chi è quello lì? Che lo salutano tutti Tutti lo stimano E poi vanno a vedere Vanno a vedere chi sono Vanno a chiedere informazioni Si informano Come dicevamo prima Quindi sono loro che si approcciano a te Non tu a loro E poi E brava Perché cosa succede? A un certo punto La donna ha preso informazioni E vuole verificare Che tipo sei Magari ti vuole semplicemente conoscere Oppure Perché è incuriosita Esatto È incuriosita Oppure non viene lei direttamente Però stai salutando il suo amico E lei viene Trova la scusa Oppure la ferma lui Io A quante volte mi è successo a me Che ero a farmi i fatti miei Con degli altri amici Ho conosciuto migliaia Di ragazze Perché Erano in quel locale E mi conoscevano tutti E le ragazze arrivavano da sole Infatti Nel mio libro Che ho casualmente Casualmente È qui Guardate Dieci volte Casualmente qui dice Non avrai bisogno Di trovare le parole giuste Sarà lei A venerite Se volete La copia La trovate Nel link qui sotto In descrizione Adesso Lo rimettiamo a posto Da qualche parte Ma tipo quante ragazze Si avvicinavano Tantissime Tantissime Ma tantissime davvero Vabbè Io Certo Io posso dire Sto pensando a mio ex No Io ho una personalità Un carisma È un personaggio Che comunque Attira molto Però sicuramente Quando andiamo Nei locali E noi andiamo Costruiamo queste robe Proprio noi Cioè Quando usciamo Con i ragazzi Noi costruiamo Il nostro obiettivo È costruire Gerarchia sociale All'interno di un gruppo Non guardiamo le donne Infatti Noi siamo gli unici Che non guardiamo le donne E tu direi Ma che cazzo fa Perché Il nostro obiettivo è Io non ti cago Creo relazione Divento Gerarchicamente Superiore A tutti gli altri uomini E tu verrai In qualche modo In contatto con me O perché Ci presento Un tuo amico Sono sempre venute Anche quelle che ti interessavano Di più No solo quelle che mi interessavano Cioè Infatti Una cosa Io ti parlo Della mia situazione Ragazzi Io ho un certo tipo Di esperienza Esatto Situazione eccetera Quindi Ci vuole tempo E a creare Prendete il libro E domani è così Però Noi che cosa facciamo Addirittura Selezioniamo prima Cioè Noi siamo Abbiamo creato Talmente tanta gerarchia Che Le ragazze normali Non vengono più Cioè le ragazze Diciamo Che Alla portata di tutto Esatto Non voglio Cioè La parola giusta è quella Alla portata di tutti Vengono direttamente da voi Il livello alto Il livello che voi cercate Esatto Perché tu ti costruisci Con quel sistema nostro Che è quello di Gentlemind Ti costruisci la tua reputazione Nel tuo ambiente Nel modo in cui vuoi tu E attiri Determinate ragazze Che sono quelle In linea con te È come se facesse Già una preselezione Una prescelta Esatto Infatti Quello che vi raccontavo L'altra volta Della mia ex Che in quel locale A Capodanno Che mi guardava Io avevo già costruito tutto Cioè io sono arrivato Nel locale Vestito in un determinato modo Con determinate persone Mi sono atteggiato In un determinato modo Mi sono scelto il posto In modo che potessi essere in linea Cioè era una roba Quando Questa diceva Vabbè ma mi hai incontrato Non hai capito Gli ho detto Era tutto costruito Avevo già scelto Di conquistarti Sapevo già Che ti avrei trovato lì In quelle condizioni Esatto Quando Questa ragazza Ha scoperto sta roba Ha detto Ma tu non sei normale Io ho detto E te ne accorgi adesso Però Perché mi diceva Eh vabbè ma ti ho conquistato io No Io sapevo benissimo Che quella sera Ti avrei conquistato Io gli ho fatto vedere Il messaggio Che avevo mandato ad Andrea No certo Arrivano Però normalmente Una sa Dove Dove può arrivare Cioè sa che tipo di Perché Parliamo con determinate donne Interagiamo solo con determinate donne Facciamo entrare nel tavolo solo determinate donne Che cosa succede In quel momento La ragazza sa già a che punto è È come il ragazzo Che sa se può conquistare La più bella del locale Oppure no Mi segui? Sì E la stessa cosa Anche le donne Si propongono Le donne che sanno che Possono avere qualche appiglio Hai capito? E non è che si propongono Poi le donne Siete molto più Più capaci Dei maschi No Non vi proponete Provandoci No Ma magari Vengono al tavolo Si propongono lì vicino Ti parlano Perché magari ti chiedono una cosa Sì sì È proprio una modalità Di interessamento Di aggancio Di aggancio E hai capito La donna è diversa Però automaticamente viene scusa Tutta una fetta Di donne Che secondo la vostra etica Non sono quelle corrette Per frequentare il vostro giro Infatti A noi ci dicono Voi non siete di questo ambiente Perché gli uomini Li vedi che vanno su tutto Sono così Hai capito? Noi invece non caghiamo nessuna E attiriamo E ci dicono Perché tu sei qua? La domanda È sempre Perché voi siete qua? Perché voi siete qua? Che cosa ci fate qua? E questa roba È Tutto il metodo Gentlemind Che è basato Sul marketing Ma ce la farei vedere Una sera? Sì certo Ma funziona in questo modo Andiamo a Genova Andiamo a Genova Le aspettiamo E facciamo vedere Le ragazze Come funziona Prendiamoci una piccola pausa Perché è una cosa importante Da dirti Fammi sapere se questo podcast Ti sta piacendo Perché in base ai tuoi feedback E a quelli di tutte le altre persone Costruiremo le prossime puntate Di questo podcast Mi raccomando però Ricordati di mettere like Di iscrivermi nei commenti Che cosa ne pensi E di iscriverti al canale Buona visione Perché? Che cosa succede? Io quando ho iniziato A studiare seduzione Avevo già anni Addietro Di marketing Cioè avevo già anni Quindi è unito le due cose Cosa ho fatto? Ho capito che la seduzione Era semplicemente Un modo di vendere La propria persona Alle donne E quindi ho detto Cazzarola Ci possiamo fare in modo Che le donne vengono da te E allora cosa devo fare Per fare in modo Che le donne Possono interessarti E allora cosa ho detto? Ho detto Come posso fare Per ricreare Le stesse condizioni Che uso nel marketing Ma sulle donne Ma nelle relazioni Con etica Quindi ho creato Un sistema In cui io spiego già Chi sono Prima che loro Prima ancora di Prima ancora di Di entrare in contatto Io infatti Mi sono trovato Spesso A presentarmi A ragazze Ah ma tu sei Maurizio Eh sì Sei quello che L'altra sera avevi il vestito così L'altro giorno avevi il vestito così E dico Ma come cazzo fai? Perché Le donne Anche se magari Non 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 piaci loro In un senso Rimani impresso Esatto Ma e quindi E questo può essere Dimmi dimmi Questo avviene solo nei cocktail bar O ci sono diversi luoghi Esatto Viene in diversi Dove gentleman agisce Secondo me viene in qualsiasi contesto Dalla palestra Ah palestra Dal cocktail bar In qualsiasi Al baretto sotto casa Però devi fare le cose giuste È ovvio che ognuno La fa al suo livello Con le sue Capacità Capacità Con le sue potenzialità E attitudini Capito? Deve creare quel contesto lì Sicuramente non Io infatti dico sempre Per avvalorare questa tesi Dico sempre Fateci caso La donna non sceglie mai Il più bello Il più ricco Il più palestrato Ma sceglie Il più alto Nella scala gerarchica Gerarchica Scusate mi sono impappinato Il più alto Nella scala gerarchica Di un determinato gruppo Ecco perché La reginetta del ballo Nei film Americani Quando si parla di scuola Di college La reginetta del ballo Sta sempre con Il migliore della scuola Di basket O il migliore della scuola Di football americano Ma in generale In tutti i contesti Se tu guardi La reginetta del ballo La più bella Di un gruppo sociale Sta con quello Più alto in grado E la gerarchia sociale È quella che devi scalare Se tu guardi Nel 90% Dei casi La donna più bella La donna Con più alto valore sociale Perché la bellezza L'estetica Per una donna Fa aumentare il valore sociale La donna più bella Sta con L'uomo più potente Potente A livello gerarchico Se tu guardi È sempre così Poi ci sono mille eccezioni Mille sfumature Però in media Tendenzialmente In linea di massima In un gruppo In un gruppo è così La donna sta Con quello che L'uomo di valore Come dicevamo l'altra volta L'uomo di valore Comunque vuole una donna Di un certo livello Certo E così anche una donna Una donna molto attraente Che ha un valore sociale alto Vuole Vuole un uomo potente Potente Che poi può essere Il capo Della squadra di bocce Del Del circolo arci E che nel suo giro Abbia il suo potere In qualche modo Infatti a volte Vedi nei paesi Ragazze bellissime Con Il capo Con brutto Con quello brutto Ignorante Però che in quel contesto È il top Sì è vero È così Eh Questo è vero È vero Mi è piaciuto Oggi ci hai lasciato Senza parole Perché è così Quando le lascio Senza parole Vuol dire che Ho colpito Però è così ragazze Perché la donna È creata Da madre natura Per scegliere Il migliore Quindi ora torniamo A Moncaglieri Andiamo a cercare Il circolo A Moncaglieri Ci sarà il circolo Delle bocce Di Moncaglieri Dove io Alice Giulia Avrete Avrete Potrete scegliere Fra i pensionati Il migliore Andiamo a giocare A bocce stasera Esatto Il socio numero uno Del circolo Esatto È vostro Noi ci fermiamo Alle molinette Però è così Se ci fai caso In qualsiasi contesto Ma guardalo anche macro È così Quindi ognuno Cioè almeno Chi ci ascolta a casa Dovrebbe Creare Il contesto Nella quale Lui riesce A emergere Esatto Che non vuol dire Per forza Che devi essere Cioè se sei una persona Introversa Chiusa Non è che devi essere Per forza Lo showman Basta anche al lavoro Nel lavoro Certo Certo Infatti di solito La segretaria Che è quella più figa Sta col boss Che è sposato No vabbè Quello è una merda Però di solito Di solito è così Se tu guardi Di solito Non è un ruolo di valore Si tradisce Si tradisce una merda Però normalmente Se tu guardi Il boss Sta con Se sta con una Del suo staff Sta con la più bella Comunque non sembra Ma l'ambiente Gli ambienti Che l'uomo E gli ambienti Che la donna Frequenta Sono importantissimi Mamma mia Cioè nel senso Tante volte Ci sono anche ragazzi Barra ragazze Sprecati Nell'ambiente Che Frequentano Certo C'è il contesto sociale Che una persona Si crea attorno a sé È fondamentale Perché quante persone A noi magari piacerebbero Però vediamo In che contesti girano E diciamo No guarda Avanti un altro Dimmi di più Dimmi di più Già Torino Non è condannio Gli amici anche che hanno Fanno tanto Eh spiegami Cioè se c'è il ragazzo Bello Eccetera Ma vai in giro Con un gruppo di amici Sgaruppati Sgaruppati A fare i cittadini Sabato e sera Dice tanto Cosa vuol dire Per te Sgaruppati A parte le battute Esatto Sgaruppati In che senso Brutti da vedere O magari senza ambizioni Che si drogano Esatto Eh quello Quello Magari senza lavoro In tuta Senza lavoro Che non hai obiettivi Che si droga Esatto Senza obiettivi Così a girare Con la birretta Ecco quello Quindi mi stai dicendo Che devo iniziare a lavorare Che devo smettere di drogarmi Eh no Ok Cioè sai no Vivere 25 anni Senza ambizioni Con la birretta Andare a sopensare Soltanto andare a ballare Quello fa tanto E magari di quei dieci Cioè quel ragazzo Che invece Varrebbe anche La pena conoscere Ma quando tu lo vedi Contestualizzato Dov'è Dici ma Non fa proprio per me Lascio perdere E la stessa cosa Nelle ragazze È uguale Eh tipo le ragazze Tipo le ragazze Questo è perché No 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 Secondo me per le ragazze È meno marcata Questa differenza Sì sicuramente sì Se vedo una ragazza Carina In un contesto Di sgarruppati Ma è raro È raro Che tu trovi una ragazza Carina in un contesto Di sgarruppati Eh no Se sono belle Sono belle Punto Sì ma tendenzialmente La ragazza Frequenta persone Simili a lei Sì Tendenzialmente Quindi sgarruppata No Però Se una ragazza bella Avrà un gruppo Di amiche belle Di in un contesto bello Io ho sempre avuto I tempi così Anch'io Cioè se c'è la ragazza bella Sicuramente conosci le amiche Sono tendenzialmente belle Eh di buona società Eccetera Tendenzialmente I locali belli Esatto Ristoranti fighi Posti Non è detto D'estate Cioè in diese Io non ho avuto altri esempi No Io vedo sempre Ci saranno Io ho altri esempi Che posso avere amicizie Molto diverse da me Cioè dal mio stile di vita Sì Sì Ma quanto sono profonde Però non saranno mai sgarruppate Eh tu non sei una sgarruppata No Eh Magari che non frequentano No No Magari che non Lo vediamo Avevo un sacco di amici Che avevo conosciuto appunto A quindici anni I classici col motorino Eccetera Che poi rimangono sgarruppati Che poi sono rimasti sgarruppati E li hai abbandonati No 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 Che mi limitavano E certo che ti limitano Sgarruppati Ma mi limitavano in un sacco Perché io avevo ambizione Ambizioni più alte Studiavo Facevo E mi prendevano per il culo Mi sentivo sbagliato E io parlavo magari Beh tante volte le amicizie troppo diverse da te Vanno a Ma perché io prima ero come loro Cattiva luce e a sminuirti Io prima ero come loro Poi sono cambiato E mi limitavano Mi sgridavano Perché io cambiavo Sì sì Parli sempre di crescita Parli sempre di ambizioni Parli sempre di cose Di cosa fare Perché loro rimanevano qua E tu invece scalavi il monte E mi tiravano giù E la cosa non faceva comodo E la cosa non faceva comodo E la cosa non faceva comodo Certo Ma infatti quante persone poi saltano Non si fanno sentire per anni Mentre tu fai il percorso di crescita E saltano fuori Nel momento in cui sei arrivato Pieno 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 Come quando girano quei video No Magari di ragazze che dicono Improvvisamente giugno Io ho la villa con la piscina E mi ritrovo con 35 amiche in più Perché è vero Perché è vero D'estate ad esempio Chi ha la casa fuori Con villa con piscina eccetera Si ritrova pieno di gente Che le scrive Magari amiche che non si sentono da anni E no se c'è la casa con piscina Non devono sapere tutti Capita Capita E la stessa cosa del successo Cioè tu quante persone Sono saltate fuori dal cappello A cilindro Quando Quando eri arrivato Però non ti hanno sostenuto In tutto il percorso Mi distruggevano Ti distruggevano moralmente C'è un gruppo Esatto Ti distruggevano moralmente Mentre facevi il percorso di crescita Quando sei arrivato Puff Sono saltate fuori Perché avere l'amico potente Fa comodo Sei un grande Hai fatto successo Ti chiedono favori Ti chiedono questo Ma come hai fatto Hai mica lavoro Guarda Io dentro Però è vero Mi è capitato anche a me Di incontrare persone Con amici sgarruppati Come abbiamo detto prima Io chiedevo Diciamo sgarruppati Però a me è stato risposto Che la cosa bella A volte di avere Magari il successo E tutto quanto E tenere gli amici Che ci erano dall'inizio Io non parlo di amici Che Allora Se uno ha gli amici sgarruppati Ma questi amici Ti vogliono bene Ci sta Cioè qua si parla Sgarruppatezza parte Si parla proprio di amici severe Eh però Cioè dal giorno zero Al giorno cento Loro facevamo il discorso Che quando vedi un uomo E vedi i suoi amici E sono sgarruppati Che idea ti fai Di quest'uomo Eh vabbè Prima faceva Se tu Non ti fai vedere In giro Con Siamo arrivati a questo Al discorso gerarchie Sì Quindi Eh Come li gestisci Vecchi amici Eh se devo andare Se devo andare A costruirmi una reputazione Non vado con quegli amici Mi nascondi Non è che li nascondo Però non vado con quegli amici Con quegli amici Mi mangio la pizza La domenica sera Mi faccio la partita Oppure magari Semplicemente Gli sistemi Gli aiuti a sistemare Difficile Vabbè io potrei farlo Però una persona Che non ha le competenze Non lo può fare Però normalmente Io tendo Dico la verità Io tendo a non giudicare Gli amici Del ragazzo Che Eh però Anche se alcuni Mi hanno lasciato Un po' perplessa Però alla fine Erano simpatici Quindi Dicono tanto Ma io poi Non ho mai avuto Io non ho mai avuto Casi estremi La somma delle persone Che frequenti Ho capito Però È anche vero Come dicevamo prima Ho conosciuto persone Di successo Che hanno mantenuto Le amicizie Di quando erano bambini Ovviamente Loro erano di successo Ma gli altri Erano sgaruppati Però anch'io Nex era un modello E il suo amico Era uno Che viveva molto Alla giornata Forse era anche Uscito di galera Oh Sì Sì No io questi Casi così Questi casi così Diciamo Non estremi Però comunque Dove ti ritrovi Col fidanzato Barra frequentazione E un gruppo Di amici Dietro di lui Completamente diverso Non è mai capitato Io sì Cioè bene o male Era sempre la compensazione Uno dell'altro In fine conti Gruppi Non gruppi Dove si conoscono Le persone Secondo voi Cioè qual è il miglior posto Dove conoscere donne Non c'è un miglior posto Esatto Un po' ovunque In realtà Se deve capitare Capita Un po' ovunque Però forse come dice lui Alla fine Non è il posto di per sé Ma è la capacità Che hai di Sì lo so Questo podcast Ti sta piacendo un sacco Sì lo so Ti starai chiedendo Come io faccio A sapere tutte queste cose Tuttavia Quello che ti voglio dire In questo piccolo intermezzo È di prendere la tua copia Del Gentleman e Seduttore Questo libro Ti aprirà le porte Del mondo Dei Gentleman E oltre al libro Avrai un sacco di bonus Videocorsi E un mare di altra roba Per prendere la tua copia Clicca sul link Qui sotto in descrizione Ora torniamo al podcast Però ti posso dire Che La discoteca Ad esempio Che è È riduttiva La discoteca La discoteca è terribile Cioè Ecco per gente Che fa i corsi miei Che quindi sviluppa Capicità seduttive La discoteca è inutile La discoteca è il posto peggiore Perché ovviamente Uno che sa comportarsi Che sa parlare La discoteca è solo per apparenza Per superficialità Ci sono ragazzi Che Bellocci Palestrati Che non hanno dignità Cioè loro sanno di essere bellocci Vanno a provarci con tante ragazze Vanno sul mucchio Le portano Le limonano male E poi passano all'altra Ascolta Quello è perché La discoteca è superficialità La discoteca deve essere Secondo me Solo una vetrina Sì Cioè come quando tu Prendi no Adesso c'è la cosa su Amazon Dei 30 giorni Prova gratuite Benissimo Tu vedi un pacco Vedi una maglia su Amazon Tu la porti a casa Fai Fai il test Poi O tenere O rimborsare Ed è la stessa cosa La discoteca Tu puoi vedere A livello di immagine A livello di Visivo Di estetica fisica Ok sì Ma poi La contestualizzazione Della conoscenza Non può avvenire In una vetrina Come la discoteca Avviene in un luogo Più appartato Più intimo Più tranquillo Che sicuramente Non è sotto cassa Cioè sotto cassa Può essere Mi piace Sotto cassa Ho capito Sotto cassa Sotto la cassa Sotto cassa Cioè deve essere Soltanto un Ok mi piace Bene Domani lo vedo Altrove Non lì Esatto Non lì Mentre invece nel cocktail bar Che è un luogo Comunque Un pochino più intimo Più tranquillo Puoi già avere Un pochino più di input A me sai che non piace Il cocktail bar Perché? Perché Vabbè Non lo so dire Perché bevono tutti Hanno tutti il bicchiere Di alcol in mano E puzzano Vabbè dipende Quanto cazzo bevono No vabbè Scusate Dipende Se si è bevuto Se si è bevuto 12 gin tonic Io ne ho mai sentito Uno che puzza di alcol In maniera eccessiva Non è anch'io Se si fa 7 gin tonic Puzza Però se si beve Ma se vai in un pochino Non lo so Non mi piace il cocktail bar Bevono tutti E a te non piace quello che beve Ti piace il ragazzo Non mi piace conoscere un ragazzo E dov'è al bar Al bar tipo caffè Al barretto del paese Al barretto di Mulan Calieri Riconduciamoci alle bocce Siamo sempre il Cerchio sicuro La luce va Esatto La luce va In un circolo delle bocce Secondo me E quindi il ragazzo In distroteca fu Il bar puzza Ha deciso Questa è la news Ma ora è una cosa Che bisogna dire Che molti bevono Per disinibirsi Però è ovvio Che se ti bevi 7 negroni E poi vai a provarci Con una ragazza Sei un coglione Però se ti bevi Due gin tonic In una serata intera Non puzzi Dal quel poi ti prendi Una cazzo di mentina Ma poi dipende anche Che cocktail bar Tu conosci Perché lo stai descrivendo Come il posto dei marcioni Esatto Che tutti ti salutano E sanno di gin Dal 2015 La scia Sì è un attimo Un'idea distorta Con la faccia rossa Lucia ha un attimo Un'idea distorta Di quello che è il concetto Di cocktail bar Secondo me Anche secondo me Anche secondo me A parte che ha le bocce Trovi la birretta Quindi alla fine Anzi la bocce è ancora peggio Caffè corretto Caffè corretto Sambuca Alla 10 di mattina Quindi forse non so tanto Cosa sia peggio Vabbè comunque non mi piace Il cocktail bar E dove lo andresti a conoscere? Allo stadio? Piuttosto in palestra Piuttosto allo stadio Sotto casa Colpo di fulgine Al semaforo Al semaforo Come mi dice Sì però Il cocktail bar no Al supermercato Lì è bello È vero che è bello Il supermercato Sì Attendibilissimo A me ragazzi Non attrae mica A parte che Ma c'è il colpo di fulgine A parte che uno deve andare a fare la spesa Cioè già io entro scazzata Cosa l'era Della spesa Poi ho la moglie con i bambini Ah vabbè Capita anche quello Io no Il supermercato Non posso proprio che Non l'ho mai considerato Ma no Bello Il supermercato Ma perché? Ha qualcosa di Ma io entro Già che mi para offre Di far tutto in fretta E andarmene Oh senti Senti Scusa bella ragazza Scusa ma Sì già Bellissimo Le brioche Le brioche in offerta Sai d'angelo Vedono Cioè non mi viene Poi magari sì Però Non ci ho mai Non ci ho mai pensato Non l'ho mai identificato Come posto Ma sì ma no Ma no Ma non esiste Ma nei loro sogni Poi può capitare ovunque Sì In treno In treno Che bello Ho due amici Che si sono conosciuti in treno Avevano i posti vicini E hanno iniziato a chiacchierare Vabbè quello ci sta Quella carino Bello Il treno Romantico Non puoi prenderti 8000 treni Per andare a casa In treno In treno Bello Bello Lo stalker dei treni Ragazzi domani prendiamo un treno per nate Eh ragazze facciamoci la carta freccia No no Questa vietteria Che sta in biglietteria Come un guardone E poi quando arriva la ragazza carina Va dietro subito dietro E gli dice Voglio il biglietto vicino a quella ragazza Così Con gli occhi così E cammino tipo Gollum Ma porca paletta Però è romantico È romantico Ma raga Non potete passare Il destino Vuol dire Beh ragazzi Ma scusate Apriamo una parentesi Cosa Quando uno viaggia in aereo E ti arriva lo steward Che ti fa lì Così no Madre dios Cioè che tiri giù la mascherina Ossigeno Lilia Ma ragazzi No io mi sono innamorata Ma 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 hai visto il mio tiktok Alina hai visto il mio tiktok Ma non parlo degli steward Di voli tipo Torino-Roma Ma no Steward seri Cioè mi ricordo Quando sono andata a Cuba Sono gli stessi Guarda la guarda Cioè Ero dove sei andata A Cuba Va Ero così Quante ore di volo a Cuba Troppe Troppe Ero così E arrivato lì Tira giù Tira su Tira giù Io ero così Sembrava Fermi Fermi Mi hai schizzato un po' di ormoni Scusa Mi hai schizzato un po' di ormoni Nell'occhio Non lo so Sarà che io trovo i viaggi Questa la scivola Ragazzi Malati Un lazzaretto Sarà che io non lo so L'idea del viaggio è come una cosa Tanto strana Allora sai cos'è Che a te piacciono gli uomini in divisa No Ah no Militari, carabinieri, polizia Quelle storie un po' impossibili Magari ti conosci in treno Solo che tu sei di Torino Lui è dell'altra parte Cioè sono quelle cose un po' Affascinanti Bello Un po' No però ragazzi Non cerchiamo un'avventura Noi cerchiamo l'uomo della vita Brava E lo troviamo al circolo delle bocce Quindi No Dove lo troviamo? Le ce ne cantate Oh mio dio No 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 Ok In libreria Arrancita In libreria Uno presuppone che uno sappia leggere bro No in libreria Non è scontata Sono andata Sono andata Era vuota Era vuota In libreria Aiuto Allora la palestra io la odio un po' perché in palestra tu arrivi e ti guardano tutti Dai infatti Quelli che ci provano in palestra non si possono vedere Le prego I miei si sono conosciuti in palestra Sì ok Però Dai Allora No è brutto in palestra Ti faccio l'esempio Ti faccio l'esempio Allora ti faccio l'esempio Il tipo palestratino Ok Che è un po' Che c'ha la tutina Tutta carina Tutto preciso Che arriva E ti dice Ciao Ciao E tu Ciao E ci provano E' vero E mi dice Ah sei nuova E già mi ha ammorbato la vita Sì sono nuova Ah perché non ti ho mai visto Ma è capitato in palestra Sì Ma è capitato in palestra Sì Sì Andiamo a prendere Nessuno ci caga Andiamo a prendere un caffè Andiamo dopo Mi ritrovavo al bar Andiamo a prendere un caffè Oppure Oppure Arriva Cioè questo è Lo stalker Poi c'è Oppure no C'è lo stalker Quello che ti guarda Che ti fai il like contact Sì Mio dio Che fai l'esercizio E ti guarda Che fastidio Eh vedi Poi c'è Quello che L'approcciatore Che viene lì Ciao Banalissimo Poi c'è quell'altro Ma raga io li vedo tutti Quello che ti fa da personal Esatto E stavo dicendo quello E ti dice Sposta la barra Vieni che ti aiuto No devi farlo Devi farlo Devi farlo meglio Viegati leggermente meglio Esatto Vieni vieni che ti vengo Vengo dietro Quelli che ti fanno le foto In video Esatto Oppure Vieni da dietro E ti dice No vieni che facciamo C'è Max Angioni Che ha fatto uno sketch Su sta roba Stavo soffocando Da ridere Perché La differenza No che c'è il tipo Che Che ci prova Con la ragazza E vado dietro No vieni 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 Dai tira su Brava 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 Aspetta che ti appoggio E Fa proprio la scena Perché è così Sono imbarazzanti Diventa trash Ma trash In palenza si va per allenarsi Basta Ma poi ci sta anche lì Però anche lì Devi costruire reputazione Corretta Esatto Senza fare il morto di figa Raga Perché diciamocelo Il morto di figa Non piace Perché diciamocelo Qualunque luogo Se crei la situazione giusta E sei in grado di Può essere Un potenziale luogo Per incontrare qualcuno Ma dipende Chi sei Come lo fai Anche luogo di lavoro Ma dipende Come lo fai In che modo lo fai Come dice lui Che tipo di In che scala In che piano Di gerarchia sociale Ti vai a inserire Poi qualsiasi luogo Va bene Però devi Essere in grado Di avere tutti questi punti Prima di Quindi Lo step secondo Il più difficile Appunto è in strada Perché in strada O ti prendi un vaffanculo O se sei decente Ti va ancora bene Se sei molto decente Lì devi essere veramente Bello e capace Perché sennò In strada ti va 99 su 100 male Ecco Perché la ragazza Tendenzialmente si gira In camera Ragazzi Tutte queste strategie Dei pick up artist Che vi dicono No fermate le ragazze Puoi ripetere Sono cavolate Perché non arrivate Da nessuna parte Fermati cowboy È una cosa importantissima Da dirti Mi raccomando Metti like Se ti è piaciuto Questo video Iscriviti al canale E commenta Fammi sapere Se questo podcast Ti sta piacendo Fammi sapere La tua esperienza Rispetto a quello Che stiamo raccontando Quello di cui stiamo parlando Tutto quello Che ti va di dirci Quindi mi raccomando Ecco un'altra cosa Palestra Cioè una delle cose Che è importante È avere un aspetto Che sia coerente Con quella Che è la tua Gerarchia sociale Cioè se tu sei Vai in palestra Vi faccio un esempio E ti puzza L'ascella Cioè No ma è importante È paragonabile Alla puzza di Alfa Cioè arrivi Ehi baby Vieni che ti aiuta E c'è la La sbanfa Di ascella Non se ne accorgeranno Non se ne accorgono C'è gente che puzza A volte In palestra Quando ci andavo ancora Ora devo riprendere Cioè C'è la gente che dico È morta E non lo sa È davvero Oppure anche In discoteca C'è gente che Ti puzza l'ascella Ma puoi Ma è legale È legale Ma cosa fa Non è legale Non è possibile Cioè non puoi arrivare In discoteca Con la Metti si presentano Tutti sudati Con le mani Con le mani Apiccicate Non toccare Non toccare Cioè Se sai di avere Una sudorazione Lascia perdere Esatto Previeni Che almeno ti eviti La figuraccia Cioè bisogna Secondo me Riuscire anche A imparare a dosare No Certe cose Cioè mi degli la mano Tutta unta Sudicia Evita Esatto Vabbè però qua Ci vuole un'educazione E ma Per questo C'è gente L'80% delle volte Non c'è È soltanto Dov'è il libro Dov'è il libro Comunque ragazzi Davvero A prescindere da tutto Dovete cercare Di costruire La Bibbia La Bibbia No però davvero Dovete cercare Di costruire Un atteggiamento Che vi permetta Di diventare Attrattivi E che non vuol dire Essere palestrati Per forza Bellissimi per forza Elegantissimi per forza L'importante È essere Delle persone Capace Di attrarre Di incuriosire La donna Che ovviamente La donna Spesso Viene incuriosita Da un atteggiamento Da un modo Da uno sguardo E in quel momento Ti dà la possibilità L'attenzione Esatto Perché la partita Ragazzi Si gioca Sull'attenzione La partita Si gioca Su quanto Sono in grado Di attirare L'attenzione Della donna Quanto ci metti A far innamorare Una donna Io allora In media In media Ci metto 3-4 settimane Ma innamorare 3-4 settimane Solo Sì A far innamorare Sì Perché poi Dopo il primo appuntamento È finita Dopo quelle 4 settimane È finita Cioè non devi più Far nulla No 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 Potrei non far più nulla Aspetta Non è che intendo Dovevo fare più nulla Però Hai fatto già Gran parte del lavoro Poi è solo mantenimento Perché il discorso è Che tu cosa fai Inizi E le fai capire Che non sei lì Cioè già il fatto Tu poni delle buone basi Da subito Io esagero Cioè non è che le poni Io proprio costruisco Una cazzo di base Neanche così tanto tempo Dovesse mai Andare male Tra virgolette La cosa Non va male Perché No attenzione Non dico che va male La tua conquista Che magari la relazione Per qualche motivo Per impedimenti Però non hai Cioè non hai un investimento Di così tanto tempo No perché Non hai mesi e mesi Di lavoro dietro È una cosa abbastanza C'è sempre il lavoro Però il discorso è Io vedo una ragazza Se mi piace Io Cioè Già ho dei filtri Molto alti Se mi piace Investo Tutte le mie energie Però la fase Dell'innamoramento Un mese Un mese Un mese Perché poi cosa succede Sono una, due, tre settimane Di chat Di incontri veloci Poi la porti al ristorante Dopo quanto tempo Fai sesso con una donna? L'ultima Con l'ultima Con l'ultima ex Importante 21 giorni Ci ho messo 21 giorni E infatti Lei diceva Le stava impazzendo No diceva Non sei normale Perché con questa qui Era figa Però noi donne Ci innamoriamo Quando attendiamo E infatti volevo dire Proprio questo Volevo dire proprio questo Faccio capire Ma io davvero Su questo sono Molto Rompo tanto le palle Perché se tu ti Metti Cioè cerchi solo Di entrare in contatto Con donne che ti piacciono Davvero tantissimo Il sesso Ma aspetta 21 giorni Voi vi sentivate Tutti i giorni Comunque vi vedevate Sì ci vedevamo Hai scelto tu i 21 giorni Non lei No 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 È successo poi È il 21esimo giorno Perché gli ho fatto Una sorpresa Bellissima Che poi è giusto Secondo me Tre settimane Due o tre settimane Sì Poi dipende Quanto ti vedi C'è una settimana Un'ora Io potevo Subito Dopo una settimana Perché c'erano le condizioni Ok Però una settimana Ci vedevamo Però il discorso era L'ho fatto proprio L'importanza Che dai a quella Esatto Perché non era per me Trombare Cioè era proprio Costruire Una relazione Perché io non volevo Solo arrivare al sesso Non mi interessava O comunque arrivare A un rapporto emotivo intenso Esatto Perché quello Sai cos'è? È che il rapporto emotivo intenso È qualcosa Che non puoi comprare Bravo Capito? Qua oggi ti do ragione Su tutto Quel rapporto lì È qualcosa Che va oltre E quando riesci a costruire Quel rapporto Tu sei ricco Cioè tu hai vinto Se no sono 11 minuti Come tutti gli altri Capito? Anche meno Anche meno Anche se va bene Anche se va bene C'è un minuto E ho fumato una sigaretta Con il caffè La sigaretta e la doccia E la doccia in un minuto Tu hai fatto una battuta Che ci sta Però è proprio Anche lì Non è 11 minuti No E come arrivi tu? Sto tre ore Ho detto no Ma non tre ore Perché sono un toro Perché proprio mi godo tutto Ma infatti ho detto I preliminari Il bacio E arrivo all'ultimo Che è proprio Ah C'ho gli ormoni Che partono Però è il bello No ho detto Se no Intendevo Se no facciamo gli 11 minuti E finisce lì E non stiamo Per un uomo che non gliene frega un cavolo E vuole solo andare in casa base Come dicono gli americani Certo Cosa ti dà? Niente Io infatti sono uno di quelli Vabbè qualcuno darà qualcosa Se vuoi fare Sì Perché si svuotano il corpo Però si svuotano anche l'anima È proprio triste raga Io ho molta Su questo lo dicevamo prima Nelle puntate precedenti Io ho molta energia femminile su questo Cioè Io credo che un rapporto Deba essere costruito In una maniera importante Infatti Ci metto tre settimane Ma in quelle tre settimane Che sono anche poche Pensavo di più eh No perché Perché vabbè Ovviamente se tu vedi un uomo Che è totalmente diverso Che sa quello che vuole Che ti tratta in un certo modo Ovviamente ci deve essere reciproca la cosa Ma tu la triggeri E lei è tua Poi vede che non sei interessato a trombarla E viene quasi Cioè dice Ma oh Ma quando è che Questo è veramente interessato Ma questo davvero fa Ma questo davvero fa Cioè questo davvero è interessato E allora la donna si lascia andare E se le fai vedere che vuoi conoscerla Che ti interessa davvero lei Che ti interessa davvero che cosa prova Che ti interessa davvero capire Che cosa prova in quel momento Che cosa vive E ti interessa conoscerla E ti interessa conoscerla La donna si lascia andare Me lo potete confermare E i muri che ti parlavo Quei muri vanno via Vanno via E lì in quel momento Lei dice Ma all'è fuori non esiste niente di questo Ma non perché io sia speciale E semplicemente perché so come funzionano le donne No ce n'è qualcuno di bravo Ce n'è Esatto Però so come funzionano le donne So che cosa serve per conquistarle E solo fatto Io dico sempre ragazzi La concorrenza là fuori È talmente arida Talmente bassa Talmente grezza Forse anche due settimane Sì è talmente grezza Che nel momento in cui tu Fai vedere una donna Che non sei lì per trombarla Che sei lì per conoscerla Che sei lì Automaticamente fatta Eh ma devi avere Esatto ma torniamo al discorso Se c'è un po' di chimica ovviamente Torniamo al discorso Che è un uomo Che deve avere la voglia di Per quello io alzo molto i muri Perché uno che dopo tre giorni Non ha voglia di andare oltre il muro Significa che fondamentalmente Lo so che tu mi dici sbagliato Però alla fine io Vedendo Dipende quanto è alto è spesso il muro Esatto O me lo fai Per me può essere anche Un grattacielo Basta che mi fai intravedere Il tramonto al di là Esatto Ci siamo Però il mio discorso È che molto spesso Una persona dopo tre giorni Si è già stufata Perché fanno questo E vedi Il problema è alla base Cioè è l'atteggiamento Perché loro cosa fanno Dicono Vabbè c'è Lucia C'è Giulia C'è Alice Adesso magari non noi tre insieme Che siamo amiche Però fanno anche questo Anche questo Però ci provano Ci provano con trenta ragazze E poi vedono quella che Cioè fanno la pastura E poi c'è prima La pesca con la rete Però nel mio caso Io ho degli standard E degli atteggiamenti Che quando mi piace una Cioè non vedo altre Perché mi prendo Io sono stato dietro Tutta l'estate a una Però vi posso garantire Che L'atteggiamento Che hai Nel conquistare una ragazza E che hai Nello scegliere la tua donna O la donna che ti piace Che poi Magari a volte ti dà il palo Fa tutta la differenza Del mondo Perché se ti piace davvero una Lei lo sente Lei lo sente Che lei è l'unica Come lo sentiamo Quando E certo Quando ci dicono le uge Sentiamo tutto Le donne lo sente Che non si è interessato A A farti la trombata A volte questo spaventa Perché magari la ragazza Non ha voglia di impegnarsi Però se tu sei davvero interessato a lei Lei lo sa E se c'è chimica Vai avanti E costruisci una relazione Può andare bene Può andare male Certo Però le basi sono diverse Le basi ci sono Esistono O comunque Vivi un rapporto vero Bello Io li adoro i rapporti veri Perché se no Vai in palestra E fai ginnastica Almeno io la vedo così Sarà che Fai ginnastica è vero Cioè È tristissimo Io lo trovo tristissimo Ricordiamo Di iscriversi Al canale Fateci sapere la vostra È importante ragazzi Su questo Fateci sapere Perché ci teniamo Ma soprattutto Se anche loro Sono interessati Poi a questa parte Più emotiva Del rapporto Ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo podcast Ciao Ciao Grazie a tutti.